Ah sì, me lo ricordo, eravamo a Garniga Terme. E cos'è che abbiamo fatto esattamente? Abbiamo iniziato con un bel gioco. Potete fare silenzio? Sto cercando di vedere le foto in pace. Dopo la messa ci spostiamo per pranzare. Fera è già al lavoro, mentre Chill riposa già. Oh, prendi nota, che bella preda! L'amati è pronta per giocare ancora. Giochiamo a scalpo. Oh, ma ti ricordi quando ti ho sconfitto a scalpo? Io me la ricordavo diversamente. Guarda, che bei puttei! Oh no, Ferao è stata già eliminata! Siamo nell'antica Cina e dobbiamo imparare le tradizioni locali. Guarda che portamento ha graziato la Chiara! Brrrr, che freddo! Ma scusa, Fra, è n'dovat? Ah, vedi mo' che è in camera! Domanda legittima, Chill. Ma questo chi è? Ah, il primo fuoco, non si scorda mai! Ma che casino con tutti questi bottoni! Oh no, stanno arrivando gli unni! Dobbiamo prepararci! Basta, Buggy! Lascia parlare anche me! Pronti? Partenza? Via! Non sono mancati i momenti di riflessione. Andiamo a recuperare l'armatura di Mulan. Poi tieni sull'alta bandiera con una sola mano. Chi ha dimenticato di mettere in ordine il cappellino? Loro! E ora partiamo in marcia! È il momento di allenarci sul serio! Grazie agli arcieri. Alla yoga. E all'arrampicata. Pronti per l'uscita? Oh, finalmente si mangia! Ehi, dormiglioni! Guardate che sta per piovere! Ma davvero? E infatti... Tanto bagnati per bagnati! Uh! C'è una nuova lupetta in città! Abbiamo scoperto il Kintsugi! Tropper time! Titi! E ora lo scontro finale contro gli uni! Ma wow, che bella la tua maglietta, Kate! Magari si litiga, ma poi ci si abbraccia! PIZZA TIME! 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 Indovino di chi ha il compleanno? C***a anche… SPILATA CDO! SfilataEDACINESE!!! PIZZA COME MELCHARETA! E adesso un po' di facce da campo. E adesso un po' di faccia. E adesso un po' di faccia. E adesso un po'.